Grave incidente sul lavoro oggi, poco prima delle 14, all'altezza dell'autogrill di Fino Mornasco, in direzione Chiasso, in un cantiere appena sotto all'autostrada 9, un operaio di 52 anni, originario della provincia di Sondrio, è rimasto schiacciato da una pesante lastra di cemento armato. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna. La lastra pesava oltre due tonnellate ed è caduta sulla schiena dell'uomo, quindi l'intervento dei soccorritori è stato molto delicato, sul posto i vigili del fuoco di Como che hanno rimosso la lastra di cemento, i carabinieri della compagnia di Cantù e la polizia per i rilievi, oltre ovviamente ai medici del 118 che hanno soccorso il 52 anni. L'operaio privo di sensi è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stato operato d'urgenza, arrivato in sala operatoria in gravi condizioni e in proniosi riservata. Grazie a tutti.